le cose. Allora su questo ci ascoltiamo il contributo registrato sempre da Paolo Cocchi. Certamente non mi sembrava un personaggio semplice, devo dire né a me né a Piero Vigna con cui ho molto collaborato nella mia vita. La cosa che mi colpì di più fu naturalmente la lettera che arrivò dopo l'omicidio di Nadine Moriot e del suo compagno. Io avevo già lasciato l'inchiesta, l'avevo lasciata d'intesa con il procuratore della Repubblica dopo l'omicidio dei due tedeschi, perché era un periodo in cui mi occupavo moltissimo di criminalità organizzata, avevamo un processo che toccava non soltanto Firenze e la Toscana, ma anche la Sicilia, quindi collaboravamo con Giovanni Falcone e gli Stati Uniti e spesso eravamo in rogatoria negli Stati Uniti. Quando mi arrivò la lettera, quella sembrò quasi un richiamo alle indagini che erano state da me lasciate, cosa che non poteva sfuggire naturalmente a chi, essendo interessato alle stesse come autore del fatto, voleva in qualche maniera rimettersi in attenzione. Fu un momento sfortunato per il cosiddetto mostro, perché la lettera giunse era in un momento in cui era assente stranamente da Firenze, l'omicidio credo, se non ricordo male, era stato commesso tra un sabato e una domenica, o una cosa di questo genere, ricordo che in un giorno festivo e la lettera era stata spedita subito dopo l'omicidio, da San Piero a Seve, tra l'altro non avevamo una casa in affitto in quel periodo di tempo, in quella località o in una località vicina e io in quel momento mi dovetti allontanare per ragioni familiari. Quando lasciai l'ufficio affidato ad alcuni uditori giudiziari che poi sono diventati magistrati bravissimi e di cui sono molto fiera e gli disse ragazzi mi raccomando cercare di non fare troppo i guai, ma controllate un po' la situazione. Loro si accorsero subito che questa lettera presentava qualcosa di strano, quando io rientrai e l'omicidio era stato ormai scoperto, quindi era fallito il piano di fare scoprire l'omicidio attraverso la lettera, me la consegnarono. Io ero convintissima che potesse accadere qualcosa di questo genere, tanto che ne avevo più volte detto a Piero Vigna, ne avevo detto vada Piero, secondo me cercheranno di farci scoprire i cadaveri e di metterci ulteriormente in difficoltà e mi sembra che chi opera si voglia prendere le proprie beffe degli inquirenti. Quindi ricordo benissimo che presi la lettera, la consegnai subito, la misi contro luce, mi resi conto della situazione e la portai a Gabriele Chelazzi. Ricordo che questo avviene di mattina, poi mi allontanai e andrei a casa e nel frattempo Gabriele aveva mandato la lettera alla politica inizia scientifica, quando tornai nel pomeriggio c'era un allarme di tutti che dicevano che è successo questa cosa, è incredibile, non era uno spinello. Infatti io dissi Gabriele ma non lo pensavo e così si scoprì purtroppo che era un limbo del seno della moriola. Io dissi va bene, però dopo questo che sicuramente mi induce ancora di più ad allontanarmi dalle indagini che peraltro, ripeto, avevo già lasciato, io non voglio sapere più niente di questa vicenda, ma non perché non avessi rispetto delle vittime, ma perché mi sembrava giusto che altri se ne interessassero e le loro conoscenze non fossero inquinate dalle mie idee. Cochi, insomma un particolare inquietante, una lettera recapitata, non una lettera come tante. All'unica donna che si era mai occupata delle indagini? All'unica donna che si era mai occupata delle indagini, da cui era uscita, imbucata da una cassetta postale, praticamente a due passi, da dove quella donna, quel magistrato aveva anche una residenza.